Per i bambini di oggi, le primigi, le robuste scarpine per il passeggio, i giochi e la casa. Le primigi, tanti modelli, tutti da scegliere. Per i miei G, guida i primi passi. Amore, vai tu? Sì, ci penso io. Ah, ricordati il biscottino. D'accordo, il latte, un biscottino. Bello solubile, così digerisce meglio. Ecco, qui c'è tutto quello che ti serve per diventare bello grande. Biscottini primi mesi plasmon, così solubili, così digeribili. Plasmon! Credeteci o no, i reggiseni ne sappiamo più di voi. Noi della Playtex abbiamo inventato l'esclusivo incrocio magico di Criss Cross, che alza e separa il seno. E la guaina, che ti controlla dove ne hai più bisogno. Reggiseni e guaine Criss Cross, per una linea più bella, come quella di Sonia. È vero, guardate, la mia linea parla da sola. Prova anche tu, reggiseni e guaine Criss Cross. Playtex Criss Cross, migliora la tua linea. Cleber, ricerca e sperimentazione oggi, danno durata e sicurezza ai Cleber di oggi e di domani. Ecco perché tutte le principali marche di auto montano Cleber. Con Cleber vai sul sicuro. Cleber, oggi per domani. Cleber, i professionisti del pneumatico. Bevo Jagermeister perché tutti mi dicono che bevo meglio di come cucino. Bevo Jagermeister perché per noi metronotte, la notte è buia, ma se ne vedono di tutti i colori. Bevo Jagermeister perché ieri ero in una cabina telefonica e parlavo col mio ragazzo. Dopo una mezz'ora, la gente fuori ha cominciato a protestare. Allora, io e Gilberto siamo usciti dalla cabina. Jagermeister, in liquore d'erbe. Jagermeister, la natura in 56 erbe. Un bagno Cidneo. E' un bagno eccezionale. Cidneo, accessori e sanitari per bagno.